Ehi, che ti succede, Nathan? Perché sei così giù oggi? Beh, ci sono dei bambini a scuola che mi prendono in giro. Mi chiamano Amtidanti, perché spesso cado a terra quando gioco a palla. Non ti preoccupare, Nathan. Ti tiriamo su noi quando cadi. A questo servono gli amici. Aha, puoi scommetterci. Ti tiriamo su noi. Ma, insomma, cos'è che ti dicono a scuola? Beh, adesso ve lo canto. Amtidanti sta in cima al muro. Amtidanti poi cade giù. I cavalieri e i soldati del re non sono in grado di tirarlo su. Povero Nathan, questo non è carino. Beh, stai su ora. Rendiamo questa canzone più allegra per te. Amtidanti sta in cima al muro. Amtidanti poi cade giù. Ma i suoi amici gli vogliono bene. Ma i suoi amici gli vogliono bene. E tutti insieme lo tirano su. Oh, sì. Grazie, Carol. Sei gentile, tu. Siamo i tuoi buddy, sai? Siamo sempre con te. Esatto! Non ascoltare quei tipi a scuola. Noi ti vogliamo così come sei. Ora te lo canto anche. Amtidanti seduto sta. Amtidanti a terra va. Le amiche e gli amici gli danno una mano. E tutti insieme fanno un gran baccano. Sto molto meglio ora. Grazie, amici. Ora cantiamo tutti insieme. E non ti scordare che noi siamo tuoi amici. Amtidanti sta sopra il muro. Ma stavolta poi scende giù. Più sicuro e più contento. Grazie agli amici non cade più. Grazie, amici. Urrà! Amtidanti sta sopra il muro. Ma stavolta poi scende giù. Più sicuro e più contento. Grazie agli amici non cade più. Ciao, mamma. Chissà che incontrerò per strada oggi. Uh, spero di vedere qualcuno dei Boom Buddies. Indovina cosa scoprirò ora? Camminando giù in città, giù in città, giù in città. Un mio amico incontro là. Guarda, è Nico! Ciao! E poi le mani e i piedi battiamo, i piedi battiamo, i piedi battiamo. E poi le mani e i piedi battiamo. Ai ho, ai ho, uh! Che bello vederti, Nico! Anche per me, Wendy! Ehi, chissà chi altri incontreremo. Andiamo! Andiamo! Un passo e un balletto e via si va. Via si va, via si va. Un passo e un balletto e via si va. Ai ho, ai ho, uh! Saltellando giù in città. Giù in città, giù in città. Un amico incontriamo là. Guarda, è Nathan! E poi saltiamo su e giù. Su e giù, su e giù. E poi saltiamo su e giù. Ai ho, ai ho, uh! Mio caro Nathan, che fantastica sorpresa! Che bello vedervi, ragazzi! Chi altri incontreremo? Proseguiamo e lo scopriremo. Un passo e un balletto e via si va. Via si va, via si va. Un passo e un balletto e via si va. Ai ho, ai ho, uh! Trottellando giù in città. Giù in città, giù in città. Un amico incontriamo là. Guarda, è caro! Facciamo un'onda con le braccia, con le braccia, con le braccia. Facciamo un'onda con le braccia. Ai ho, ai ho, uh! Che carino vederti qui, Carol. Uh, ragazzi, sono contenta di vedervi anch'io! Ehi, ora siamo quattro ragazzi su cinque. Haha, speriamo di incontrarne un altro. Un passo e un balletto e via si va. Via si va, via si va. Un passo e un balletto e via si va. Ai ho, ai ho, uh! Camminando giù in città. Giù in città, giù in città. Un amico incontriamo là. Guarda, è Mars! E noi lo andiamo ad abbracciar. Abbracciar, abbracciar. Noi lo andiamo ad abbracciar. Ai ho, ai ho, uh! Uh, uh! Uh, ora siamo tutti e cinque Boom Buddies insieme. Sì, continuiamo e vediamo quali altre avventure ci aspettano. Sì, il mondo è la nostra perla. Haha, un passo e un balletto e via si va. Via si va, via si va. Un passo e un balletto e via si va. Ai ho, ai ho, uh! Ehi ragazzi, ho un'idea per la canzone dello spettacolo di scuola. Bello, qual è Wendy? È una canzone che parla di ogni bambino e bambina che dal di fuori sono diversi, ma in realtà, se guardiamo dentro, sono uguali tra loro. Cosa intendi? Vi faccio vedere. Poi proviamo tutti insieme per lo show di domani sera. Per me va bene. Guance paffute, fossetta sul mento, labbra rosa e i denti di dentro, capelli rossi, favolosi, occhi azzurri, feliziosi. E all'interno un cuore d'oro e un cervello, un gran capolavoro. Così speciale, tu sempre sei, sorridere noi fai tutti i giorni, sai. Sei speciale, speciale, ognuno è speciale. Sei speciale, speciale, dentro e fuori speciale. Oh, Wendy, questa canzone è perfetta per lo spettacolo. Oh, ho capito di cosa parla. Possiamo sembrare tutti diversi, ma nel nostro cuore siamo tutti uguali. Esatto. Ora è il turno di Carol. Tu sei la voce principale e devi dire a Nathan cosa lo rende speciale. Sicuro? Guance paffute, naso carino, viso grazioso, un gran certosino. Capelli castani, belli e sani, amante dei cani e degli umani. Meglio ancora, un cuore d'oro ed un cervello, un gran capolavoro. Così fantastico, tu sempre sei, sorridere noi fai tutti i giorni, sai. Sei speciale. Speciale, speciale, ognuno è speciale. Sei speciale, speciale, dentro e fuori speciale. Oh, wow, mi hai fatto sentire così speciale. Tu sei speciale. Ok, Nico, ora sei tu il protagonista. Nathan, canta! Facciamolo. Guance paffute, capelli ricciolosi, bella sempre, sai. Che favolosi, che favolosi. Un bel sorriso così deciso, occhi blu, questo qui sei tu. Meglio ancora, un cuore d'oro ed un cervello, un gran capolavoro. Così fantastico tu sempre sei, sorridere noi fai tutti i giorni, sai. Sei speciale, 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 ognuno è speciale. Sei speciale, speciale, dentro e fuori speciale. Guance paffute. Guance paffute, capelli d'oro, sempre mostra, un grande coro. Naso a bottone, un gran burlone, sempre in agitazione, che briccone. Meglio ancora, un cuore d'oro ed un cervello, un gran capolavoro. Così fantastico tu sempre sei, sorridere noi fai tutti i giorni, sai. Sei speciale, speciale, ognuno è speciale. Sei speciale, speciale, dentro e fuori speciale. E' stato fantastico, ok ragazzi, lo spettacolo è domani sera. Andate a casa e fatevi una bella dormita. Notte Wendy! Notte ragazzi, ciao! Buonanotte! Ciao, buonanotte! Buonanotte! Ehi ragazzi, giochiamo al gioco, io vedo! Che cos'è? Oh, è super divertente, lo vedrai! Sì, andrò io per prima, guarda e impara! Io vedo, io vedo, vedo con i miei occhietti, io vedo, io vedo qualcosa che inizia per B. Qualcosa che inizia per B. Qualcosa che inizia per B. B, fammi pensare, è qualcosa che puoi mangiare? Guarda su, guarda giù, forse è qualcosa che è laggiù. Oh, lo so! B sta per BOL! B, A, L, L, B sta per BOL, sì! Giusto Nico, hai indovinato! Tocca a te! Ok! Io vedo, io vedo, vedo con i miei occhietti, io vedo, io vedo qualcosa che inizia per W. Qualcosa che inizia per W, qualcosa che inizia per W. W? Vediamo, cosa cerchiamo? Chiamiamo? Guarda a sinistra, guarda a destra, guarda ovunque, che maldestra! Oh, lo so! W sta per Waves! W, A, V e S! W sta per Waves, sì! Che divertente! Ehi, Kenon, ora che sai come si gioca, prova tu, dai! Ok, andiamo! Io vedo, io vedo, vedo con i miei occhietti, io vedo, io vedo qualcosa che inizia per S. Qualcosa che inizia per S. Qualcosa che inizia per S. S, indoviniamo, vincerò questa volta, andiamo, guarda là, guarda qua, un aiutino, ci son vicino! Oh, lo so! S sta per Sand! S, A, N, D, S sta per Sand! Guarda lì! Uh, uh, ne ho un'altra! E voi ragazzi la adorerete questa! Io vedo, io vedo, vedo, vedo con i miei occhietti, io vedo, io vedo qualcosa che inizia per I, qualcosa che inizia per I, qualcosa che inizia per I, qualcosa che inizia per I! I, oh sì, è qualcosa proprio lì, guarda a nord, guarda a sud, è qualcosa che va giù giù? Lo so! Il sta per Ice Cream! Tu l'hai amato! Io l'ho amato! Tutti hanno amato il gelato! Andiamo a prenderne un po'! Ehi ragazzi, che ne dite di andare all'avventura oggi? Yeah! Come il parco, lo zoo! Nathan, puoi chiedere alla tua madre di portarci? Non lo so ragazzi, sembra molto impegnata oggi! Andiamo Nathan, voglio andare a giocare! Ok, ci provo! Ehi mamma! Possiamo andare all'avventura? No no no! E giocare con il pongo? No no no! Mangiare caramelle? No no no! Dai mamma, possiamo? Ho detto no! No 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 no! No 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 no! Dai mamma! No 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 no! No 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 no! Vuol dire no! Oh cavolo! Mia madre non ci lascerà mai andare da nessuna parte! E forse potrei provare a chiederglielo anch'io! Grande idea! Buona fortuna! Possiamo non studiare? No 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 no! Mangiare un sacco di bei dolci? No 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 no! Ci porti a giocare a bowling? no 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 oppure andare a passeggiare ho detto no 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 dai mamma no 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 vuol dire no non c'è speranza aspetta fammi provare nessuna mamma può resistere al mio dolce fascino non può dire no ci guardiamo un film no 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 beviamo un buon frullato no 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 stare in pigiama party no 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 giocare un po con rover ho detto no che ne dici di un gelato no uscire con la squadra di calcio no stare in pigiama party no andare al parco a fare due salti no 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 dai mamma no 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 vuol dire no beh credo che questo chiarisca tutto niente avventura oggi ragazzi ehi ragazzi ho finito le mie faccende che ne dite di quel gelato davvero che bello grazie mamma mamma